SIA LODATO GESU CRISTO Quando ho sentito che pioveva, avevo il tremo e ho detto sarete pochi, ma non siete pochi, grazie a Dio anche per questo. Potrei parlare di me quattro giorni interi senza fermarmi, ma quando dicono parla del Signore e di ciò che Lui ha fatto per te, allora ci pensi, ma sono degno, userò le parole giuste, potrò trasformare nelle parole tutto ciò che ha fatto per me, da quale fango mi ha tirato su e mi ha messo qui adesso davanti a voi. Va bene, cominciamo da capo. Come Padre Zvoni mi ha detto, io sono Dario Besik. Sono nato 43 anni fa, con la decisione di Dio ed è iniziata la mia storia. Vengo dalla Croazia, da Zagabria, sono nato completamente cieco, completamente, completamente. Il primo intervento chirurgico avevo a sei mesi e mi hanno ridato 2-3% di vista che ho tuttora, grazie a Dio, ma nella Jugoslavia in cui abbiamo vissuto non aveva la possibilità. tutte le persone disabili sono messe in certe istituzioni per essere più lontane possibile dal pubblico. Se qualcuno ti vede che hai un cieco, se hai uno nella sedia a rotelle, Dio ci protegga. E così io, tra l'altro, sono andato a finire in un certo istituto e lì ho trascorso 12 anni. Quindi come asilo e tutte le elementarie medie. Poi sono arrivate le superiori, che era specializzata per i non vedenti. Eravamo staccati, allontanati, forse dieci anni fa. Hanno capito che le persone disabili sono capaci di dare molte, molte cose. Questo è giusto per conoscermi un po', per farvi comprendere chi sta davanti a voi. Sono marito, padre di due figli. Marito, cerco di essere buono, non lo so quanto sono buono come marito. Cosa è essenziale qui? Ho vissuto nell'ex Jugoslavia, lì sono andato a scuola, non avevo nessun collegamento con Dio. Non amavo Dio, ne lo odiavo, non lo conoscevo. Io ho sentito che qualcuno parlava di Dio, ma niente. Questo ho lasciato alle nonnine. preghiera del rosario, eccetera, era una cosa vuota per me. Il primo segno che non andava bene qualcosa era quando dovevo giurare come bambino ai comunisti. tutti ricevevano i fiori rossi e io ho ricevuto una rosa bianca. E questo da un colonnello. Perché? Io? Tu sei segnato come un nazionalista contro comunisti quando avevi sei, sette anni. potete immaginare questo. Io in modo assoluto ho cominciato a odiare tutte le persone da quel momento. La cosa più difficile da dire ora è che al primo posto odiavo mia madre. Perché senza farle le domande, ero arrabbiato perché mi ha messo in un istituto. Io non pensavo che se mia madre poteva fare in un modo o in un altro, ma la odiavo. E odiavo tutte le donne attraverso di lei. Tutte le femmine. Sapevo di poter farcela meglio, di più. Ma la mia forza, la mia intelligenza non andava verso Dio perché non conoscevo quel signore, non sapevo chi era lui. Ma mi sono rivolto alle altre spiritualità. Interessavano le cose parapsicologiche, sopranaturali, eventi strani, manifestazioni, eventi strani. E siccome ho un'eccellente memoria, almeno dicono così, ho sentito che da qualche parte esiste una certa meditazione. Hanno detto che la meditazione viene dall'est, la meditazione trascendentale. Questo, tra virgolette, è un dono, un dono serio del Satana. E questo passa. Tra virgolette, è un dono bellissimo. E questo dono passa. Lì ho fatto progresso. Ho imparato tutte le situazioni, meditazioni, e potevo fare qualsiasi cosa volevo. Uno dei doni più grandi che ho ricevuto, doni, tra virgolette, è il dono della manipolazione. Potevo, l'uomo di media costituzione, di media volontà, senza problemi, potevo, con due o tre frasi, potevo fargli cambiare la testa. Questo sembra una cosa quasi impossibile, ma questo è vero. È molto pericoloso ed è attorno a noi, ma messo forse in cellofan. Questo non mi bastava, ma volevo essere ancora qualcuno. Volevo che la gente mi conoscesse e ho conosciuto la tecnica di Reiki. Ho fatto progresso anche in Reiki. Ho fatto iniziazione al primo grado, secondo, terzo. Sono andato troppo lontano, al terzo livello mi sono fermato, ma siccome non avevo mai le cose che appartenevano a me, così non volevo condividere le mie conoscenze con gli altri. E in questo Dio mi proteggeva. Questo Reiki, quando sei terzo livello, una cosa serio, ero maestro di Reiki, ma non l'ho praticato con gli altri. Assolutamente con nessuno. tenevo per me esclusivamente. ero felice per i gradini che raggiungevo. Tutto questo è avvenuto nelle superiori. Ho letto Herman Hesse a undici, dodici anni. Avevo una testa forte all'epoca. Sono terminate le superiori e cosa facciamo? Avanti, sono entrato nel mondo della musica. Un po' professionale, ha cominciato a girare il denaro, le ragazze, viaggi. Ho fatto di tutto, ho passato di tutto, ma è rimasto un grande vuoto. È rimasto un vuoto verso le donne, verso tutto ciò che stava davanti a me. Io riconoscevo e apprezzavo quello che era alle mie spalle o sotto i miei piedi. Io dovevo essere primo. Io devo essere Dio. Io sono tutto. Per raccontare molti altri dettagli, ma mi fermo. Ho cominciato a fare esperienza con le droghe. Per non elencare tutto, ma c'era di tutto. Quando sono arrivato da questo, sono proprio più produttivo questo ha approfondito sempre di più la mia solitudine, la mia impotenza e questo cresceva sempre di più. Perché ho odiato tutte le donne? Nessuna donna ho permesso di avvicinarmi proprio perché in ogni donna vedevo la possibilità che mi faccia ciò che mi ha fatto mia madre. e io come bambino non comprendevo che doveva essere così, che non doveva essere in un altro modo. C'era l'odio presente attraverso la musica e tutte le altre cose. Avevo l'intenzione di offendere, non in modo brutale, ma in un modo bello, ferire, offendere, usare amore per le cose cattive. questo mi andava molto bene, molto bene. Poi una volta ho suonato a Zagabria e ho conosciuto la mia moglie attuale. Credevo che poteva succedere una cosa del genere. Ma ho detto tu sei una tra le altre, tra le altre, ma il Signore ha voluto diversamente. ho iniziato con lei e con lei avevo un'altra ragazza, una non sapeva per l'altra e viceversa. Divertimenti, il mio ego cresceva, due ragazze nello stesso tempo, fino al momento in cui è avvenuto il concepimento. è stato concepito il mio primo figlio. Sono senza Dio, non c'è chiesa, non ci sono regole, non conoscevo nulla, ma ero sempre il contrario all'aborto. Dico contro l'uccisione, l'omicidio dei più deboli. e ho detto Dario, cosa succede ora? Non c'è via d'uscita, devi sposarti. Per me questa era una delle decisioni più belle, più buone della mia vita. Non so se era la decisione migliore per la mia moglie, bisognerebbe chiedere a lei, per me era la decisione migliore. È arrivato mio figlio nel 2008 è iniziato lì il mio cammino verso l'alto, il mio cammino della conversione. ho iniziato, appena è iniziato la conversione. Quando è nato mio bambino, io aspettavo nelle profondità sarà cieco come me, infatti lui è nato completamente cieco. Per me era quasi normale. io sapevo che con la cecità si può vivere e lui vede che si può vivere e gli auguro sia la cosa peggiore che gli succeda. La mia conversione è iniziata un anno dopo la sua nascita, in un modo molto forte. come è iniziato? Ripeto ancora, siamo andati a vivere in un'altra città croata da dove viene mia moglie. Mi ha chiamato e mi ha detto perché tu non vuoi venire? Abbiamo un gruppo di preghiera. Io ho detto gruppo di che cosa? Mi ha portato in una parocchia dove c'era un bellissimo sacerdote c'era la preghiera riflessioni canti condivisione eccetera la comunità era carismatica sotto la guida di quel paroco dove sono iniziate le preghiere dei fedeli a una delle preghiere dei fedeli io semplicemente ho bussato con il pugno sul tavolo e mi sono alzato e ho detto fanatici io non ho nulla a che fare con voi che Dio di che cosa state parlando ma si parlava sempre di me si diceva sempre Dario in te sono le tenebre che tenebre io sto bene nulla mi manca il sacerdote il sacerdote era molto dolce gli sono molto grato sono grato al Signore che l'ha messo sulla mia via non sono andato via e lì è iniziato tutto lì ho cominciato a conoscere il Signore quando ti converti e quando entri nella grazia di Dio tutto comincia ad andare bene ma non è così per me ha cominciato ad andare tutto male molto male nel senso che ho capito come ho vissuto prima una vita brutta le cose che erano normali da quel momento le ho vissute brutte cattive la prima cosa che mi ha colpito avevo migliaia e migliaia di conoscenti migliaia di persone qualsiasi città villaggio andavo ovunque mi conoscevano attraverso la musica quando cominciavo ad andare a Santa Messa uno dopo l'altro li ho persi in un anno sono rimasto solo in una città estranea non conosco nessuno non conosco la città sono rimasto completamente solo avevo l'aiuto in preghiera le suore carnelitane suore paroci dopo l'ho saputo non sapevo allora avevo un loro sostegno nella preghiera e non mi sono reso 2012 2012 poco tempo quando per la prima volta sono andato ad un ritiro spirituale il rinnovamento per tutti appena convertiti inizia con i gruppi carismatici il ritiro si svolgeva in un piccolo paese di Bosnia sono andato lì con un pullman ho sentito che i credenti coloro che dicono di credere non hanno una vita molto piacevole questo è importante per il mio cammino legato a Medjugorje dopo due ore di preghiera in pullman non bevevo acqua niente si pregava si pregava continuamente ho detto a mia moglie io adesso ero sul pullman e mai più mai più non ho bisogno di questo e non ho bisogno non credo neanche questa gente abbia bisogno e lei mi ha detto cosa faccio io ho detto questo è bello ma questa esperienza è terribile e lei ha detto tu parli con la gente bene tu sei molto amichevole perché tu non guidi i gruppi li organizzi no non ho esperienza in questo no 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 come Adamo quella volta credeti a mia moglie e le dissi sì ma in differenza di Adamo mia moglie aveva una proposta eccezionale che dopo si è verificata una cosa eccezionale ho deciso di entrare nella vigna di Dio ho deciso di accettare il compito che Dio aveva per me prima che io fossi nato ho deciso semplicemente di essere qualcuno che esorta e guida la gente a lui penso ora desidero dire con la mia vita presentare Cristo come l'ho conosciuto io primo viaggio a Međugorje non ho mai pensato prima non ho voluto non mi è venuto nemmeno in mente qualcosa di molto grande per le persone particolari non posso farlo io e cosa è successo nel 2013 il nostro paroco ha organizzato un pellegrinaggio a Međugorje siamo andati due pullman e io per la prima volta sono salito sulla colina delle apparizioni su Krijavaz non volevo andare ho detto ma questa è una cosa stupida adesso non ci voglio mica camminare su quelle pietre su quei sassi sono salito sulla colina io ho pregato come sapevo in un momento ho sentito nel cuore ho sentito la voce fisica ma nel cuore ho sentito come che qualcuno mi raccontasse non a me porterai le persone ho lasciato perdere questo come io faccio portare la gente io sono cieco qualcuno deve guidare me e io devo guidare gli altri passano dieci minuti e di nuovo esortazione verrai a Međugorje arriverai a Međugorje porterai la gente come un'ulteriore conferma e dissi beh sì io non sentivo se era la Madonna o che cosa chi ma il pensiero e il sentimento è difficile da descrivere con le parole era un pensiero nel cuore senti questo calore questa parola che passa attraverso di te dentro di te non riesco a esprimerlo meglio Spirito Santo vi spieghi e vi aiuti in questo passato quell'anno io ormai l'ho dimenticato ma chi guido chi porto arriva 2014 e inizia il mio amore il mio affetto il mio legame più positivo a Međugorje come il Signore l'ha arrangiato il nostro paroco organizza il pellegrinaggio a Međugorje e bisognava prima si pagava si organizzava tutto bisognava sedersi sul pulmone andare a Međugorje e godersi queste giornate venerdì avremmo dovuto partire mercoledì sera il paroco ha avuto l'ictus l'ictus come in un film grazie a Dio un ictus leggero ma era ricoverato ma non poteva viaggiare non poteva venire a Međugorje siccome eravamo molto collegati sono andato con un amico a trovarlo in ospedale e ho detto padre reverendo cosa facciamo adesso l'agenzia non darà indietro i soldi è troppo tardi e lui calmo ha detto tu vai tu e ho detto cosa sì tu e io ho detto cosa faccio adesso andiamo in qualche modo si farà e lì è iniziato il mio collegamento nuovo con Međugorje sono arrivato a Međugorje verso le sei del mattino non sapevo dove era la colina delle apparizioni l'ho dimenticato e mi vergognavo domandare gli altri e con i pellegrini ho aspettato che l'ufficio informazioni si aprisse e era una donna più anziana lì ho detto sì l'ho dato Gesù Cristo mi dica per favore dov'è la colina delle apparizioni vai lì ci sono indicazioni ma cosa devo fare su quella colina con chi è arrivato con un gruppo allora domandi sulla guida la guida spiegherà tutto ho inchinato il capo e ho detto io sono la guida allora mi ha spiegato tutti i dettagli dove come la prima salita era fatta in modo che non mi ero nemmeno reso conto che sono salito dal 2014 fino ad oggi il Signore mi mette in cammino 20-30 gruppi all'anno non so con che cosa l'ho meritato e perché adesso ho capito quanti siete per la forza dell'applauso pensavo che fosse vuoto lo spazio davanti l'altare perché non vi vede secondo la forza dell'applauso comprende quanti siete e lì non era la fine le sorprese avvenute negli anni che la Madonna mi aveva preparato non era la fine delle sue idee strane idee strane della Madonna per me ho pensato Madonna fermati un po' continuamente mi metteva le persone bellissime sul cammino mi esortava sempre mi dava forza coraggio speranza tutto ciò che dava a Cristo da quando l'ha generato fino alla croce fino alla sua morte io lo ricevevo in abbondanza proprio da lei successo un salto da 2014 a 2018 io ricevevo sempre informazioni nel cuore farai questo farai questo si farà in questa maniera o in un'altra ma continuamente fate l'esempio salita su Krijevac o salita sulla collina quando vai col gruppo anche quando vai da solo ma quando vai col gruppo devi fare la via cruces e devi pregare in ogni stazione devi leggere per loro devi spiegare per loro qualche riflessione qualche messaggio della Madonna e io dicevo a me cosa faccio non vedo leggere vado sulla collina sì vabbè Rosario l'ho imparato a memoria ma cosa racconto loro Vergine che hai concepito per opera dello Spirito Santo e poi è la prima volta mi fermo e mi chiedo dentro di me Dio cosa faccio dove come e sento dentro di me racconta la vita parla Signore il tuo servo ascolta perché tu hai le parole della vita eterna ho sentito nel cuore parla quello che senti dentro di te e quello ho ricevuto ho ricevuto un dono enorme tutte le volte quando salgo ci fermano perché ci fermano e domandano ma possiamo salire con voi vogliamo ascoltarvi vedo che lei prega non legge spesso la gente mi domanda come fai salire su Krijevac come fai salire la colina avevo tante situazioni in cui mi hanno detto impossibile che tu non veda dall'altra parte mi fanno il cenno mi salutano e io passo e loro dicono come arrogante pieno di sé e devo spiegare a loro che sono cieco un gruppo di giovani nel 2017 siamo venuti per il festival era 5 agosto di notte si andava su Krijevac e tutti avevano le lampadine le lampade io li guido leggo tra virgolette la via Crucis la prego e mi dicono come vedi come fai raccontare questo ho detto non lo so ma so come fai camminare non hai la lampada ci vedo in un certo momento erano molto lenti e ho detto dove siete e loro mi dicono dove sei tu fai il cenno con la lampada e lì ha cominciato la fede più grande l'occhio sinistro nulla e l'occhio destro 2-3% e lì veramente attraverso queste esperienze il Signore si glorifica immaginate una persona che è cieca mettilo nello spazio sconosciuto senza bastone come si arrangia è impossibile questo è esclusivamente provvidenza di Dio alcune approvazioni che veramente è così spesso sono qui nell'ordine del Malta spesso vado lì negli ultimi giorni non li ho visitati ma tre settimane fa sì cammino poi vado contro un pilastro o un albero e mi faccio male ma mai sulla colina e su Krizovac sia nel salire sia nello scendere una mia gratitudine immensa al Signore il Signore è sempre con me con tutti noi solo gli devi permettere ci accompagna sta a fianco a noi gli devi permettere ma qui non finiscono le avventure della Madonna esibizioni della Madonna è arrivato 2018 un altro festival dei giovani io sto bene così mi vedete bene così bene è arrivato 2018 un altro festival la palestra della scuola non era terminata e dopo il programma lì sul campo giochi si andava lì non c'era la palestra era campo giochi non prendete questo come proposta per voi stasera si cantava si condivideva il tempo lì eravamo seduti alcune ore prima ero sulla colina e pensavo come sarebbe bene venire a piedi a Međugorje perché mi piace tanto camminare un gusto per me e nel cuore sento l'esortazione verrai da me in bicicletta e ho detto cosa? verrai in bicicletta da me va bene ho cominciato a pensare sul serio la Madonna dovrebbe riposare un po' perché ha delle idee mi dà delle idee impossibili io come faccio? si a piedi vengo però con la bicicletta no come ho imparato che al Signore nulla è impossibile e ciò che la mamma sua mamma lo domanda Gesù non lo rifiuta ho detto prendiamo questa idea della Madonna con cautela e ho detto Dio se veramente è così se io ho sentito bene questa proposta dammi un piccolissimo segno e arriviamo a quella sera del festival quando su quel campo eravamo seduti c'erano ragazzi della Germania un ragazzo del Libano ci ha cantato un bellissimo canto che mi ha colpito molto io ho dimenticato questo che ho detto al Signore fammi un segno ho detto va bene non verrò in bici in un momento abbiamo continuato a parlare e una ragazza comincia a testimoniare e dice che l'anno scorso è venuta in bici da Medjugorje senza che qualcuno la domandasse qualsiasi cosa ho detto Dio mio e io butto fuori questo ho detto Marina io ho sentito nel mio cuore l'esortazione verrai l'anno prossimo in bicicletta e io come faccio a venire in bicicletta è un ragazzo che era con noi un carissimo amico Tony un ragazzo molto giovane ha detto cosa ti preoccupi io guido e tu sei dietro a me e dove mi metto ho detto finché abbiamo guardato su internet e abbiamo capito che ci sono le biciclette doppie per i nove denti ho detto va bene Signore l'ultimo sigillo l'ultimo segno l'ultima approvazione adesso procuraci questa bicicletta che costava più di 3000 euro questi soldi non li avevi tu Signore trova la soluzione arriva 2019 attraverso le persone meravigliose che sono state toccate dalla provvidenza questa bicicletta è stata comprata ci siamo preparati e ci siamo inviati per la maggior gloria a Dio e la nostra edificazione abbiamo fatto in 12 giorni 1200 km dalla Croazia da Oseca a Međugorje e abbiamo pregato per il nostro popolo croato per la nostra patria l'abbiamo offerto per loro per il popolo croato e per la patria croata per la salvezza per la salvezza siamo passati per tutte le cinque piaghe di Gesù e l'ho compreso arrivato a Međugorje quando sono arrivato a Međugorje sono caduto davanti alla statua della Madonna non potevo muovermi più cinque piaghe quale cinque piaghe Alimash Maria Bistriza Trissat Sin e l'ultima piaga a Međugorje sono cinque santuari della Madonna in Croazia sono attaccato ancora di più al Signore l'ho seguito ancora di più dopo questo evento ma anche lui anche lui era più forte mi metteva sul cammino costantemente le persone come Padre Svoni mi era detto il mio soggiorno a Međugorje senza gruppo a marzo quando c'era ritiro spirituale per gli organizzatori lì io con i miei messaggi esortazioni nel cuore al punto che ormai ho paura mi è stato detto che vivrò qui se questo sarà o non sarà metto nelle sue mani mi è stato detto che il collegamento che ho con Međugorje sarà sempre più forte questo è il mio desiderio più grande il mio desiderio grande è di raccontare ciò che ho ricevuto che ho vissuto raccontare la misericordia di Dio l'attenzione della Madonna l'attenzione materno carità materna le persone che incontri le esperienze che vivi ciò che non puoi comprare con il denaro con le cose materiali il canto che ricevi mentre sei ammalato mentre sei pieno di paura ti prepari per la confessione mi stavo preparando per la confessione prima della testimonianza avevo tanta tanta paura e lì davanti i confessionali hanno cominciato cantare un canto che dice scenda giù la testimonianza un canto che proprio dice queste parole Signore questo era il segno più grande proprio prima della testimonianza perché volevo confessarmi prima di questa testimonianza come conclusione di tutto posso ringraziare soltanto padre Zvonimir ai pellegrini che sono il mio sostegno continuo questa volta siamo una cinquantina la gente della mia zona della mia città grazie vi ringrazio perché voi credete che il Signore è non solo in me ma in tutti noi ci accompagna ci sostiene grazie a tutti voi che siete Medjugorje grazie a tutti voi che avete riconosciuto Medjugorje come oasi non solo oasi della pace ma oasi dell'amore tutti parlano della confessione tutti conoscono Medjugorje per la Santa Comunione per la Santa Confessione ciò che io posso dire qui non vengono solo cattolici solo cristiani vengono altre religioni altre sete ho avuto l'opportunità di dialogare anche con loro e loro dicono qui si sente la presenza di Dio ciò che mi dona tanta gioia è che si convertono e riconoscono che Cristo è l'unico Dio che la Madonna è la nostra Madre Celeste e che Medjugorje è la mano offerta a noi che solo noi esclusivamente noi possiamo accogliere o rifiutare vi auguro ciò che è avvenuto a me con tutte e due mani con tutto l'essere con l'anima cuore il corpo accogliete la mano tesa della Madonna cuore aperto del Signore e lasciatelo entrare nei vostri cuori cuori di carne o cuori di pietra Dio vi benedica vi ringrazio vi ringrazio